Ci lasciano, facciamo entrare il numero 91, Mirko Algieri di Bidonia. Ci canterà di Vienno d'Accesso. Ti sento camminare nel cortile per le scale la notte, penso a te. Stai a dormire sul letto, sento battere il mio petto e l'amore che provo per te. Tu che non hai chiesto mai niente di me, io che con rispetto sai parlo di te. Sempre iniziamo a risumare dentro di me, credo che non mi stancherei mai di te. Stai a dormire sul letto, sento battere il mio petto, sento battere il mio petto e l'amore che provo per te. Stai a dormire sul letto, sento battere il mio petto, sento battere il mio petto, sento battere il mio petto e l'amore che provo per te. Tu che mi hai cambiato senza un vero perché, ho un sorriso grande che più grande non c'è. L'amore già ti chiamo ma non so neanche se ti accorgi di me. Sei a pazza d'improvviso, non posso più dimenticare il tuo viso. Sei a pazza d'improvviso, non posso più dimenticare il tuo viso. Sei a pazza d'improvviso, non posso più dimenticare il tuo viso. Sei a pazza d'improvviso, non posso più dimenticare il tuo viso. Sei a pazza d'improvviso, non posso più dimenticare il tuo viso. Grazie.